buongiorno a tutto allora finalmente è arrivata la stampante e diciamo che in un paio d'ore sono riuscito a capire come funziona e a fare le prime stampate diciamo adesso ho ordinato anche il toner nuovo perché ho detto siccome quello è quello omaggio potrebbe essere un toner nuovissimo libidine mi dura magari sei mesi e magari dopo 20 fotocopie mi dice ciao guarda sono già a scarico e quindi ho detto meglio che lo ordiniamo così tra il 14 e il 18 di maggio dovrebbe arrivare e quindi poi finalmente dovremmo essere a posto per anni e anni e anni visto che la stampante precedente ne è durata una decina d'anni più o meno spero che anche questa vi duri abbastanza comunque è arrivata la primavera quindi magliettina del gigione quella solita di Don Camillo per ricominciamo con le mie magliettine poi ne ho quattro nuove ma ve le mostrerò più avanti prima le utilizzerò a uscire sempre che ci permetteranno di uscire oggi ho visto un mio amico al supermarket ci si è andati un five con i guanti un pianto veramente comunque partiamo subito visto che martedì sera si martedì sera ho visto la diretta con le pulzelle le quattro youtuber lilletta eli c'era veronica cartoon cobato e massa rambaldi e gli ho girato una canzone che io due natali fa avevo rifatto per le bariste dell'happy bar che è il locale dove noi andiamo a vedere le partite e non solo l'avevo fatto anche per le ragazze del crazy way che è l'altro locale dove andiamo ma ve la ve la esporrò un'altra volta praticamente partendo dalla canzone miu miu ragazze vincenti l'ho trasformata in happy bar bariste vincenti quindi adesso non ve la canto perché se la canto e avete appena mangiato vi viene da vomitare ma ve la elenco come l'ho rifatta poi se volete andate a vedervi l'originale perché comunque miu miu amiche vincenti lo trovate tranquillamente su youtube comunque happy bar bariste vincenti happy bar bariste vincenti i giorni e le ore passano lì è rimasto uguale e le giornate non cambiano è una noia tra lavoro e casa ma fermarsi non si può sogni qualcosa una novità ma ti piace sempre stare al bar e il silvano adesso intanto cosa ci sta fa che sarebbe il proprietario dimmi un po chi sei sei sempre più bella e tu lo sai hai cambiato rossetto e luc ma chi sei sei troppo bella e tu lo sai e in crisi ci metterai ma fare questo non sei da sola quattro bariste brillanti e vincenti dai sorrisi vivaci e ammiccanti mia o mia o e ancora mia o ma le fusa le fai sempre solo tu che gruppo tante bariste tutte belle vincenti con bellezze così sorprendenti mia o mia o e ancora mia o sguardi furbi e sorridenti per di più lottate contro il tempo grande rivale del cliente indisponente quattro bariste sicure vincenti dalla bellezza così disarmante mia o e ancora mia o miagolando arriverai laggiù percorrendo la gioventù e poi faccio mia o mia o bariste vincenti mia o mia o amiche vincenti preparano tutte le colazioni e scoprono nuove versioni se il cliente all'improvviso cambia il listino dimmi un po chi sei sei sempre più bella e tu lo sai hai cambiato rossetto e luc ma chi sei punto di domanda sei troppo bella e tu lo sai e in crisi ci metterai ma fare questo non sei da sola quattro bariste brillanti e vincenti dai sorrisi vivaci e ammiccanti mia o e ancora mia o malefusa le fai sempre solo tu che gruppo tante bariste tutte belle vincenti con bellezze così sorprendenti mia o e ancora mia o sguardi furbi e sorridenti per di più lottate contro il tempo grande rivale del cliente indisponente quattro bariste sicure vincenti dalla bellezza così disarmante mia o e ancora mia o miagolando arriverai laggiù percorrendo la gioventù happy bar bariste vincenti happy bar amiche vincenti ecco è una direte è gigi che schifo che chiavica che qua che su che giù comunque io glielo rifatta così loro un anno e mezzo fa oramai l'hanno apprezzata ormai cioè io non mi rendo conto del tempo che passa adesso stavo rivedendo i video di di stefano piffer non mi ricordo neanche più quando ho iniziato a seguirlo io continuo a dire che sono quattro anni che lo seguo ma forse forse sono molto di più di quattro anni che lo seguo anche se i video del 2014 2015 non li ho visti io credo che piffer lo seguo almeno dal 2016 anche perché ha iniziato a fare lo youtuber nel 2017 alla fine dove 21 novembre 2017 quindi lui era almeno un anno e mezzo o due che mi diceva fallo 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 perché lo già seguivo allora quindi 2015 2016 che seguo stefano piffe e l'illetta comunque fatemi sapere cosa ne pensate della canzoncina rifatta e ci vediamo ai prossimi video ciao